E ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Vincenzo Oggi voglio dire una cosa, che praticamente non ci saranno più video dalle 3 fino alle 5 Perché ho delle cose importanti da fare, però alle 5 e mezza un video molto speciale con Francesco Cante Quindi non andatevelo a perdere, lasciate 10 mi piace a questo video E iscrivetevi al mio canale e anche al canale Francesco Cante Lascia il link in descrizione, attivate la campanella e lasciate il like Bella ragazzi